sta Ottaviani, poi Fioretti, prova ad andarsene a Barriale ma non ci riesce Avolio, Avolio in mezzo a due Avolio, la sblocca lui, Avolio con un gran destro che si infila alle spalle di Piermarini al minuto 11 e 28 si sblocca questa partita con un gran gol di Avolio